Amici e sottotitoli, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano Fanta Calcio. Questo a mio avviso sarà un video fondamentale su cui riflette in maniera importante per il Fanta Calcio e anche per la strategia da mantenere per la prossima asta del Fanta Calcio che avverrà, come detto, partire a campionato il 14 di agosto. Quindi massima, massima attenzione perché qui c'è il dubbio che va avanti da tanto tempo, da tanti anni. Se è meglio puntare su un super top di reparto, ad esempio come Immobile, spendendoci il 40% o, se è più corretto, spendere il 20% per 2, tu abbassi. Io ho fatto l'esempio, ma perché questo era l'anno passato, su Abrama e Berardi comprate mediamente al 20%, mentre Immobile in certi casi è nato anche al 40%. Quindi come nella famosa pubblicità del fustino in promozione scambierebbe il suo fustino con i miei due fustini, il cambio 2x1, come dice qua la pubblicità, è un affare d'oro o due fustini in cambio di uno solo. Questo qua è un esempio per dire che dobbiamo capire se è giusto puntare su un super top di reparto spendendo il 40% e magari, come dire, lasciando un po' soccombere altri reparti o puntare su due top bassi spendendo il 20% e capire se questa strategia funziona oppure meno. Io per fare questo ho fatto un'analisi veramente approfondita dell'anno appena passato. Sarà un video un po' lungo, quindi se qualcuno di voi non vuole seguirlo perché vede che è troppo lungo e si annoia, purtroppo questo però, meno di questo non riuscivo a fare perché veramente ci vuole un po' di tempo ad aver curato questo video e a cercare appunto di darvi il massimo del supporto e per questo motivo seguitelo se volete, magari anche mettendo solamente l'audio ed evitando di vedere la mia facciona, ma questo è un altro discorso. L'anno scorso, come detto, mediamente ho fatto un po' lo studio delle varie aste, ho visto che Immobile è andato al 35-40% e un giocatore come Abraham, Berardi o Zimè mediamente sono andati via al 20%, quindi la somma delle due percentuali quadra. Ho fatto dunque un'analisi valutando Immobile, valutando Abraham e valutando Berardi e poi mettiamo insieme i pezzi. Immobile l'anno scorso ha fatto 31 presenze, ha fatto 27 gol, ha fatto 2 assist, 4 munizioni, ha segnato 7 rigori tirando 9, quindi 2 rigori sbagliati, media voto 6.6, fanta media voto 9.02. Il suo sviluppo è stato così, prima giornata ha fatto più 3, seconda giornata ha fatto più 6, terza giornata nulla, quarta giornata più 3, quinta giornata più 3, sesta giornata più 2, settima giornata senza voto, ottava giornata più 3, nona giornata più 3, decima giornata meno 0,5, undicesima giornata più 3, dodicesima giornata più 3, tredicesima senza voto, quattordicesima nulla, quindicesima giornata più 2,5, sedicesima più 6, doppietta, dicesettesima nessun bonus, diciottesima senza voto, diciannovesima senza voto, ventesima nulla, ventuno più 3, ventidue più 6, ventitré nulla, ventiquattro più 3, venticinque più 3, ventisesima senza voto, ventisettesima meno 0,5, ventottesima più 3, ventinovesima più 3, trentesima nulla, trentunesima nulla, trentaduesima tripletta più 9, trentatresima più 0,5, trentaquattresima più 3, trentacinquesima più 3, e l'ultima 3 ha fatto nessun bonus, la trentasesima, e poi due senza voto, le ultime due giornate, quindi avete visto che è un andamento di immobile che per certi versi ogni tanto si comprimeva il suo rendimento con i più 3 costanti, in certi casi ha avuto anche di più 3 costanti per diverse giornate, ad esempio dalla quarta alla sesta ha avuto 3 volte in bonus, alcune giornate tipo le ultime 3 o non ha avuto bonus o ha fatto senza voto, quindi questa cosa un po' ha impedito di andare a bonus per tutti i fanta allenatori. Quindi prima cosa da tenere in considerazione è questo andamento, poi magari nella guida strategica che scriverò metterò anche questi dati, anzi per chi voresse abbonarsi al canale, l'unico modo per avere la guida sarà quella di abbonarsi al canale, quindi abbonatevi, fatelo perché è veramente un grande supporto per il veterano. Guardiamo come si è comportato Abraham, attaccante della Roma, 37 presenze per lui, 17 gol, 4 assist, 9 munizioni, rigori tirati 3, segnati 3, quindi nessun rigore sbagliato, media voto 6.26, media voto 6.62. Abraham ha fatto prima e seconda, più 2, più 3, terza e quarta, nessun bonus, quinta e più 3, sesta e settima, nessun bonus, ottava, nona e decima, fatto tutte e tre le volte, meno 0,5, undicesima, nessun bonus, dodicesima, più 2,5, tredicesima, nessun bonus, quattordicesima, più 3, quindicesima, meno 0,5, sedicesima, senza voto, diciassettesima, più 1, diciottesima, doppietta, più 6, diciannovesima, nessun bonus, ventiesima, più 2,5, ventinunesima, più 3, ventiduesima, nessun bonus, ventitresima, più 6, ventiquattresima, meno 0,5, venticinquesima, più 3, ventisesima, nessun bonus, ventisettesima, più 3, ventiottesima, più 2,5, ventinovesima, nessun bonus, trentesima, doppietta, più 6, trentunesima, nessun bonus, trentaduesima, meno 0,5, trentatresima, più 1, dalla trentaquattresima, alla trentasettesima, nessun bonus, l'ultima giornata, ha fatto doppietta, più 6. Quindi, in questo caso, Abraham ha avuto picchi di alti e bassi, certe volte ha avuto giornate senza nessun bonus, quattro volte di fila, ha avuto picchi dove ha fatto doppiette, alla diciottesima, la ventitresima e la trentottesima, insomma, ha distribuito i bonus in maniera un po' più discontinua rispetto ad immobile, così è meno colpo d'occhio. Parliamo poi di Berardi, 33 presenze per lui, 15 gol, 13 assist, clamoroso, 9 ammunizioni, rigori segnati 6 su 6, media voto 6,71, fanta media voto 8,33. Berardi ha avuto un andamento nel quale ha distribuito bonus dappertutto, ha fatto la prima giornata e la seconda senza voto, terza giornata più 1, alla quarta nessun bonus, dalla quinta alla settima sempre più 3, ottava nessun bonus, alla nona più 3, alla decima più 0,5, alla undicesima nessun bonus, la dodicesima giornata ha fatto più 3, alla trentesima ha fatto più 4, alla quattordicesima ha fatto più 3, alla quindicesima ha fatto più 0,5, alla sismesima più 0,5, diciassettesima più 2,5, 18-19 nessun bonus, ventesima più 3, ventunesima più 3,5, ventiduesima senza voto, ventitresima più 1, ventiquattresima ha nessun bonus, venticinquesima più 0,5, ventisei-27 più 1 più 1, ventottesima doppietta più 6, ventinavezima meno 0,5, trentesima più 5,5, trentunesima senza voto, trentaduesima nessun bonus, trentatresima senza voto, trentaquattresima più 1, trentacinquesima più 0,5 trentaseisimo nessun bonus trentasettesima più 4 e trentottesima nessun bonus cosa ho fatto poi? ho messo insieme ho sommato i bonus di Immobile da una parte e di Abram più Berardi dall'altra e ho visto cosa? ad esempio la prima giornata Immobile ha fatto più 3 e la copia Abram più Berardi ha fatto più 2 sotto la seconda giornata ho messo Immobile che ha fatto più 6 Abram più Berardi ha fatto più 3 quindi ho visto tutte le giornate nelle quali o Immobile o la copia Abram più Berardi ha fatto più bonus una dell'altra cosa ho notato? ho notato che in particolare la somma dei bonus di Immobile totale è di più 73 ha fatto più 73 punti di bonus quindi differenza tra bonus e malus in questo senso la coppia Abram più Berardi in totale ha fatto più 104 quindi di fatto da un lato il sole Immobile va bonus per partita con una media pari a 1.92 la coppia Abram più Berardi va bonus mediamente per partita a 2.73 questo simulando il fatto di avere comunque di fianco Immobile un giocatore che sia neutro perché comunque possiamo puntare solamente il fatto che sia neutro la somma di Abram più Berardi o il sole Immobile ho definito quante volte è nato meglio 14 volte durante la stagione è stato meglio Immobile 21 volte è stato meglio la coppia Abram più Berardi 3 volte è stato indifferente schierare uno o l'altro quindi qua si vede che diciamo così con sette partite di differenza sarebbe stato meglio prendere la coppia Abram più Berardi perché sto facendo questo esercizio? questo esercizio si può fare per diversi motivi allora l'ho fatto perché negli ultimi anni ho notato nelle mie fantaleghe ma anche nelle fantaleghe di molti amici fantalenatori che il fatto di acquistare un giocatore importante immobilizzare per capitale per un singolo giocatore come può essere Immobile diciamo Immobile di Torno ma in tempi ce ne erano altri vedi Cristiano Ronaldo vedi anche in passato abbiamo speso il capitale tante volte per il solo Ronaldo il fenomeno o per Sheva o per altri Super Super Bomber o per Battistuta questa strategia nel corso degli anni si è modificata perché quando devi comprare un Super Bomber ma non c'era modificatore di difesa ma se andavi a segnare non c'era magari l'assist andavi a segnare tanto e questo ti serviva non c'era la differenziazione di gol sulle soglie difensori centrocampisti questa cosa aiutava molto oggi si è un po' modificata nella mia rega ad esempio se domani l'ultima stagione nella quale ha vinto un fantanatore con un Super Bomber è stata la stagione 2015-2016 quando Iguain vinse con 36 gol la classifica Cannonieri quindi la domanda è è così indispensabile un Super Bomber per vincere il Fanta o è dannoso ad esempio quest'anno nelle nostre leghe nella mia lega 12 ha vinto chi aveva in attacco Berotti Scamacca nella lega dei Fanta Youtuber ha vinto Michele che aveva Insigne Arnautovic ecco giusto per dire chi aveva il Super Bomber è arrivato mediamente in posizioni diciamo così sotto il podio diciamo dalla quarta quinta in giù quindi ho fatto un'analisi su quali possono essere i vantaggi di avere il Super Top o di avere due Top Bassi perché chiaramente le statistiche che vi ho mostrato direbbero che meglio la coppia avrà più Berardi però ci sono anche delle motivazioni un po' di mentali psicologiche che possono far propendere alcuni fantanatori sul fatto di avere il Super Top il Super Top quali sono i vantaggi? io ho messo sicurezza mentale cioè uno si blinda dicendo ok io mi prendo il Super Top di reparto sono tranquillo che colui almeno 20 gol sono assicurati e da lì partiamo il secondo punto di vantaggio è che non c'è un rischio di gerarchie chiaramente se tu prendi immobile non è che puoi pensare di cambiarlo durante la settimana e non farlo giocare in certe partite alcuni di voi mi hanno chiesto se far giocare o meno Berardi ecco giusto per darvi un approccio mentale su questo tema il terzo vantaggio è la sicurezza di reparto cioè voi avete che un po' si accompagna a quello che è il rischio delle gerarchie avete una sicurezza di reparto e su questo giocatore farete sempre affidamento quindi avete visto che immobile mediamente vi tradisce poco quando gioca mediamente qualche bonus lo porta anzi più di qualche bonus perché 27 gol in 31 presenze è fuori dal normale però ci sono anche degli svantaggi chiaramente lo svantaggio intanto è il fatto di mobilizzare un capitale importante e di avere come dire poco margine sugli altri reparti e questa cosa in un fantacalcio con fantanatori molto preparati può essere abbastanza un disastro come detto questo è legato un po' alla difficoltà di gestire il budget se avete da gestire il budget un 60% un 65% su tutti gli altri giocatori diventa complicato fare una squadra di livello poi chiaramente ci sta andare a prendere tutte le scommesse e magari anche azzeccarle però diventa un po' più rischioso svantaggio è che se fa meno di 20 gol diventa un investimento sbagliato e quindi a me è capitato prendere immobile l'anno dopo quando fece super capocannoniere e fu un mezzo flop non dico mezzo flop però comunque fece se non ricordo meno di 20 gol e questa cosa mi danneggia parecchio perché lo pagai tantissimo chiaramente se si dovesse infortunare sarebbe la fine del vostro fantacalcio ma se si dovesse infortunare anche per un mese e mezzo senza pensare a sei mesi questa cosa vi danneggerebbe moltissimo perché chiaramente vi trovereste ad avere un attacco con Ghiasi Bonazzoli e non è proprio il massimo e il fatto che la concentrazione del rischio è un po' legata tutti questi aspetti che abbiamo appena detto è legata esclusivamente al fatto di avere solamente un super top di reparto quindi il rischio di concentrazione è veramente tantissimo quali sono invece i vantaggi di avere i due top bassi chiamiamoli due top bassi per comodità per due top che pagate mediamente ai 20% cada uno il vantaggio primario è che al contrario della concentrazione c'è la diversificazione del rischio quindi avere due giocatori vi permette di essere un po' più tranquilli il fatto che se magari si infortuna un giocatore avete l'altro che magari non è infortunato e così poi durante l'anno se non si infortunano è meglio chiaramente il rischio di che possano fare quelle cose che avvengono magari c'è il rischio che possa litigare con la società ad esempio negli anni passati c'era Gomez che era un super top di reparto a centrocampo ha litigato con il mister è andato via quindi il fatto di avere solo lui poteva essere dannoso il fatto di avere due giocatori magari uno litiga con la società o con l'allenatore e se ne va vi permette di avere comunque un cuscinetto con l'altro secondo top di reparto se si infortuna un po' legato a quello che abbiamo appena detto c'è l'altro giocatore che può superire c'è una maggiore variabile nella scelta dei titolari perché chiaramente in questo caso potreste anche pensare perché magari voi prendete Abrampi e Berardi poi prendete sotto costo Bonazzoli e Caprari e magari c'è il match dove siete anche tentati da dire guarda Berardi gioca contro il Milan e Milan è in formissima Caprari gioca contro una scappata di casa e magari penso di mettere Caprari a posto di Berardi ci potrebbe anche stare a livello teorico ci potrebbe stare mentre andando a puntare su Immobile chiaramente prendendo solamente lui gli altri tre giocatori di reparto non potete pensare di fare una defensivazione di questo tipo c'è anche un rischio un rischio abbastanza latente però ci può stare io ho messo il rischio che entrambi i giocatori entrambi top bassi possono fare meno di 10 gol meno di 10 gol o possono infortunarsi entrambi insomma un rischio sulla carta teorico c'è ma un po' più difficile quindi questi sono i vantaggi i svantaggi di avere un super top di reparto i vantaggi i svantaggi di avere due top bassi di reparto poi chiaramente se avete necessità di dubbi anche nei video potete chiaramente darmi le vostre indicazioni qualche numero in sintesi Immobile ha una media del 9.02 in 31 presenze che equivale a 280 fantapunti Abraham ha una media del 7.62 in 37 presenze che equivale a 282 fantapunti Berardi ha una media del 8.33 in 33 presenze che equivale a 275 fantapunti se Immobile abbiniamo affianchiamo una seconda punta che prenda sempre fisso 6.25 quindi una seconda punta media in 35 presenze tu avresti una coppia Immobile più questa seconda punta ipotetica che fa 507 fantapunti mentre con Abraham e Berardi avresti una fantacoppia che fa 557 fantapunti quindi 50 punti in più sulla coppia Abraham più Berardi questo è stato un giochino per dire ok io mi prendo Immobile mi prendo un secondo giocatore che mi fa sempre 6.25 che vuol dire che mi porta bonus una volta su 4 partite cosa viene fuori da questo meccanismo viene fuori questo che comunque anche con la coppia Immobile più seconda punta e media e Abraham e Berardi la seconda coppia vince sempre considerando quindi il campionato intero a scontri diretti ho fatto anche un altro giochino grazie all'amico Andrea Immobile va a voto oltre il 6.5 per il 68% delle volte Abraham va a voto oltre il 6.5 il 46% delle volte e Berardi va a voto oltre il 6.5 il 67% delle volte quindi una volta su 3 ancora una volta la coppia d'attacco a bonus Abraham più Berardi pare essere più indicata per questo per il nostro fantacaccio è stato un video complicato mi rendo conto che è stato un video complicato non semplice da spiegare perché qua di fatto si va un po' anche a cambiare un po' il paradigma del fantacaccio io ho visto che tanti fantanatori quest'anno hanno seguito il mio consiglio di puntare tanto su modificatore difesa sulla imbedibilità del portiere sul centrocampo top e magari su un attacco equilibrato questo per far sì che la squadra sia equilibrata e che anche in caso di qualche defezione la nostra squadra sia pronta per andare avanti io ho visto che storicamente negli ultimi 5-6 anni questo tipo di approccio mediamente ha ripagato tanto diversamente dal fatto di puntare su Cristiano Ronaldo di turno dove di fatto si è andato a immobilizzare il capitale su una sola figura per poi non essere soddisfatti appieno discorso un po' diverso su questo Gianluca l'amico Gianluca sicuramente mi è più mi insegna di più l'amico Gianluca è a Sydney però lui fa un fantacalcio dove integra un po' anche di promesse e di scommesse con contratti biennale e triennale o con anche di giocatori primavera questa cosa un po' lo sorpassa perché di fatto si potrebbe trovare a un certo punto anche ad avere dei giocatori che risultano top di reparto ma con poca spesa e quindi il fatto poi di andare a compensare con dei giocatori pagandoli tanto quindi andando a prendere super top ma avendo il cuscinetto di fatto di avere un giocatore importante come nel caso ha avuto quest'anno lui se non ricordo male ha avuto Vlaovic riportato a nuovo di fatto con poco prezzo questa cosa vi permette di avere qualche vantaggio in più quindi ad esempio nel nostro fantacalcio due anni fa si è portato a nuovo un giocatore come Leao ha pagato solamente uno poi Leao non ha fatto molto bene però di fatto qualche cuscinetto io l'anno prossimo mi riporto a nuovo con il mio giocatore con un biennale e Nico Gonza ho fatto solamente il 2-3% chiaramente posso fare delle strategie diverse ho una terza punta che mi garantisce almeno 7-8-10 gol come terza punta pagato pochissimo posso pensare magari di fare sì una strategia un po' diversa nel mio attacco quindi valutate anche quello che è la vostra caratteristica del vostro fantacalcio se partite da zero tutti gli anni è un discorso che dovete tenere in grande considerazione questo di capire se andare a puntare su un giocatore importante fondamentale per il fantacalcio come può essere Immobile quest'anno come può essere il CR7 negli anni passati o altri giocatori che vi garantiscono almeno 20 gol e una sicurezza mentale però tanto budget a disposizione oppure andare a puntare su due top diciamo così non super top di reparto ma top importanti perché quest'anno chiaramente Abram e Berardi sono stati pagati sì ma non in maniera così 40% e in base a questo capire se questa è la strategia migliore tra le due ecco queste sono le due macro caratteristica io spero che questo video vi sia stato utile come hai detto è stato un po' lungo infatti dobbiamo chiudere vi ringrazio come sempre per dare attenzione vi ricordo di fare un po' di passaparola sul canale del veterano un abbraccio a tutti voi abbonatevi e iscrivetevi al canale a presto ciao ragazzi